ciao a tutti amici una live incredibile e ma ho bisogno di 500 amici mi rivolgo voi ho bisogno di 500 uomini iscritti per comprare la macchina pal capuzzi the greatest president the god ever created look i'm really rich allora mettiamo innanzitutto subito un otto millimetri oh now you're talking down allora amici abbiamo bisogno di 500 iscritti andate oggi quando andate al lavoro conto su di voi dovete andare nei bagni scrivere mirko jackson i canali iscrivetevi iscrivetevi perché se noi arriviamo a 20k non posso comprarmi la macchina per quelli che si fossero sintonizzati solo ora ve li faccio questo è il mio microfono bellissimo link nella descrizione un dollaro oh 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 ci sto ancora lavorando sull'accento allora pepita vieni pepita attenzione il treno milano roma è in arrivo al binario 7 ferma a forlì faenza castelbolognese bologna mantua ferrara imola milano effetto al servizio di prima e seconda classe prima classe settori a b seconda classe cd e allora mi ecco quando fra i nuovi lavoretti vlog a vediamoci vi volevo far vedere il mio nuovo cavalletto manfrotto per i vlog però non lo so capito vieni vi posso far vedere il mio nuovo studio vi posso far vedere il mio nuovo studio guarda ho messo tutti i pannelli ho messo di qua ho messo di là ve lo potete vedere ho fatto il tutorial poi vi posso far vedere il mio bellissimo libro di dalì quando siamo andati a tampa che tra l'altro tampa quando siamo andati a tampa diciamo siamo andati al museo di dalì siamo andati a vedere la casa natale dove ha vissuto il maestro no ma che dalì nato straniero perché ha vissuto a tampa il grande guru la vita allora voi magari che non lo conoscete questo direte ma dai che cacata questi pittori ma chi se ne frega michelangelo questi imbecilli però da lì era molto intelligente perché miscolava la scienza con la pittura tutte illusioni ottiche a me le piacciono illusioni ottiche e illusioni ottiche topissime topissime allora ho messo il video stamattina della nissan 370z già nel video si capisce che non c'è piaciuta e quindi non è neanche quella macchina lì dai non è non hai non ha vissuto a ginevra no ha vissuto anche a tampa perché si è sposato con una merda non stiamo dicendo niente di privato non creiamo subito soliti casini si è sposato una di tampa e ce l'ha detto anche lui in video ha vissuto a new york e poi è venuto anche in florida infatti io sono andato a fare a tampa e gli volevo portare proprio un regalino da tampa e voi direte a tampa cos'è? e i tampax no? no gli volevo mandare che sono un pacco di sigari intanto lui fuma quindi ah no però però alla fine gli abbiamo preso una roba che però sono andato alla posta costa 25 dollari a spedirlo costa più la spedizione che il pacco allora forse gli mando solo una cartolina o pubblicità gratis dice Mirko Jacks magari con un... mi servono 500 iscritti porca puzzola altrimenti vabbè la macchina compra lo stesso forse questa settimana però non posso mettere il video eh perché il video è il 20... celebration 20.000 iscritti eh anzi vediamo Walter quanti iscritti c'ha perché porca puzzola sta aumentando fra poco mi supererà perché... ah 9.000 e 3! eh! 9.000 e 3! eh! ma anche lui ha detto che deve fare una... uno special per i... 10.000 non so io l'ho detto io gli ho detto faremo special per i 10.000 compro una jeep eh... jeep Cherokee eh... sì 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 l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto un po' di caffè pepita vieni vi faccio vedere i pepiti pepita 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 e basta questo quanto ah vediamo i commenti com'è che si fanno vedere ah ecco compra la G dai eh non ha vissuto Gineve è che a Ginevra ehm... mai deciso di una macchina la prende Walter Magescotto no... ehm... ciao Michele ti consiglio una BMW perché è una macchina usata per il consiglio di fare... non fate i frustrati per i nonni scalati Ma dai Allora La BMW come anche la Mercedes Sono delle macchine Che in America Costano anche poco No problem L'ultima volta che vogliono comprare una macchina Abbiamo guardato queste Mercedes SLK Molto belli Spider Ma il problema è quando devi andare dal meccanico Lì qualsiasi stronzata costa un sacco Infatti sono sempre sconsigliate da tutti Poi Mary Fisher che magari di te è una donna Cosa vuol dire Lei è espertissima nei motori e ha avuto sempre un sacco di cose Un sacco ha avuto Mercedes Audi Lexus E poi quando gli ho detto Adesso ho provato la Nissan Io ho detto La Nissan 360 è chi se la caga La Nissan 360 è bellissima Il paddle shift Sotto il volante Ma c'era anche la mia Lexus Una cagata Ma è usata E quindi Diciamo che mi fido abbastanza Anche poi me l'ha detto anche Bruce Che Bruce È abbastanza anche lui appassionato di motori Porsche Faceva il meccanico Il figlio fa il meccanico È amico dei meccanici Un amico dei meccanici È tuo amico È l'amico del meccanico È sempre tuo amico Allora Mi hanno detto che comunque i pezzi costano Mercedes e BMW È sempre un po' un problema Sarà perché sono già un po' auto di lusso Ma sarà anche perché magari ce ne sono meno Vabbè Cioè ce ne sono Non lo so Sarà che auto di lusso Allora Com'è come non è Comunque andate su CarMax.com Sito americano E guarda Giusto per vedere i prezzi Non è che dovete ovviamente comprarla Però Ci sono un stracasino di offerte bellissime Adesso ditemi una macchina Allora Vediamo una bella A me piaceva la BMW Z4 Perché adesso me l'ho fissato un po' con l'idea dello Spider La Fiat Guarda Allora La tecnica che utilizzo io Ti seguo da poco Sei diventato il mio YouTube preferito Sei semplicissimo come noi Sei sempre lo stesso Ok Ciao skeleton Ciao ciao Allora Mettiamo Il mio trucco di cercare le macchine Mettere un massimo di miglie 20.000 Dai 20 ai 30 Allora mettiamo 30.000 C'è una BMW Z4 23.000 Miglia Che sono 30.000 km A 36.000 dollari Inizia a costicchiare Poca puzzola Ecco guarda Del 2011 Una BMW Z4 3i 23.000 dollari In 20k Ecco Questo diciamo è il mio budget Insomma Non più di 30 E più di 20 Dai 20 ai 30 Perfetto Perfetto L'unico problema È il 2011 No 2011 Un po' Ma magari Guarda ci hanno messo Guarda ve la faccio vedere Quanto è bella Aspetta che si fa Ecco Guarda che bellina 2011 Z4 23.000 20 Devi pagare 449 dollari Di transfer fee C'ha le ruote nuove Perché Se vai sulle macchine di lusso Le ruote dopo costano Non è che devi cambiare le ruote Di una pecar Tipo se compri una corvette Magari anche una corvette Che adesso Cerchiamo subito No Chevro Le Corvette Guarda C'erano qua Jacksonville Delle offerte strepitose Ovviamente fuori dal mio budget Però Guardate questo Una Stingray Corvette 41.000 5k Variamente nuova Guarda che bella No Poi vediamo cosa c'è Una 16 50k Guarda Questa qui anche Guarda che bellina 43.000 dollari Già inizia a costicchiare Porca puzzola Non c'è un po' Blu Blu Guarda quanto è bella Quanto è bella Affanculo Vediamo Ci ho cliccato Vediamo se Blu Non mi piace di più Perché è rossa È bella Ma è un rosso Che non mi piace Allora Quanto consuma 17 miglia Al gallone In In città 29 in autostrada E un 6.2 litri Ottocilindri 455 Horsepower Manual Non mi piace Manuale A me Non mi piace Non mi piace Ecco no Quindi La corvette Siamo ancora Sul fattibile Non stiamo parlando Di una tesla SUV Che costa 96.000 dollari Quella che ho provato No Però Diciamo che lo potresti Anche fare No Vai a spendere 600 dollari Al mese 650 E ce la fai No Però Vai dal meccanico Devo cambiare le ruote E le ruote Secondo me Di una corvette Minimo 2000 dollari Altro che Io recentemente Ho cambiato le ruote Per la mia Ho speso 650 No Quindi La tesla Allora Tutti mi dicono La tesla 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 Io la tesla Guarda è Ero molto Diciamo La volevo La volevo La volevo Anche poi Ultimamente Sabato Siamo andati A vedere Altre auto E Ho provato La nissan Ho provato La mustang E ho provato Anche una golf Dopo Anzi Non so se metto Il vignato La golf Ma chi se la caga la golf Eppure qua La golf È vista come Eh guarda La macchina europea C'è tutta la tecnologia Che tecnologia Ce l'ha Però Non capisco Se gli americani Vedono che Le macchine europee Sono più belle E gli europei Guardano le macchine americane Che sono più belle Fatto sta Che lo provate Era cabrio Però Alla fine A me non piaceva Sembrava di Sembrava appunto Di stare dentro una golf No Tra l'altro io l'avevo La golf Quindi non mi piaceva Allora Praticamente Tesla Allora Abbiamo provato Tre auto E poi siamo usciti E ho detto Vabbè allora ciao Perché non ci piaceva nessuna Allora ho detto Vabbè a sto punto Ordiniamo la Tesla Non ci sono soluzioni Il problema della Tesla Modello 3 Che Che è Quella più economica Economica Parte da 35.000 Ciò vuol dire Se parte Dopo C'è la storia dei pacchetti Poi c'è le tasse Poi c'è quel Facciamo Già partiamo da 40.000 No 40.000 E c'è la versione base Baracca Subaru Proprio La base Baracca No C'è il portiere Così Così Vai su E giù No Poi se te vuoi Quelle funzioni aggiuntive Tipo l'autopilot Potenziale Aspettavi Vi faccio vedere Le mail che mi ha Mandato il tizio Con le specifiche Perché uno dice Allora Tesla Autopilot No La Tesla Quella da 35.000 Ha un autopilot Che si fa Più o meno Quelle robe lì Però Non è quello Che fanno vedere Sempre No 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 Se lo vuoi E Nance Ciao Michele Non è una monaca Michele Non è una monaca So con le mani So con le mani Se lo vuoi Quello potenziato Devi spendere 5.000 dollari in più Se vuoi La funzione Che stanno ancora Lavorando Che è proprio quella Imposti la destinazione Va La macchina va Deve curvare Sali Scendi Va tutto Altri 3.000 dollari Quindi se vuoi Il top della gamba Dell'autopilot Spende 8.000 dollari In più Comunque qua Elon Musk Mi ha inviato Le mail Aspetta che la cerco Tesla Confirmation Qua era la confirmation Ma abbiamo fatto Una confirmation Reservation No Non è questo Ah ecco Elon Ciao Mirko Ho visto Mi hai guardato Ieri sera in diretta Che facevo spacey Si Elon Non ti ho visto Ma che cacata Due missi vengono giù L'altro è finito in mare Cioè non vengo più Nelle tue live Elon Basta Allora Prezzo 35.000 dollari Standard battery Con un raggio Di 220 miglia 300 chilometri Più o meno Benissimo Standard battery E quella migliore Super charge rate 130 miglia Di range In 30 minuti Se fai la super charge Ciò vuol dire Divendare in quelle Colonne della tesla Top Che costerebbero 20.000 dollari Installate a casa tua Però Tim fa 130 Un pieno Diciamo Metà serbatoio Con 30 minuti Se vai Se la fai a casa Ti fa Ogni ora Te la carica Per 30 miglia Allora Quante miglia Faccio io Per andare Da Mary Fisher Diciamo Al giorno Andare intorno Tonni qua Teni qua Veranti qua Una flat 30 miglia To massimo Quindi diciamo In un'ora 30 miglia Te lo carica Però Bisogna avere La presa A casa Della 240 Che non abbiamo Perché tutte le case americane Hanno la 110 No? E quindi Lì c'è un costo aggiuntivo Bisogna chiamarli Quindi E quindi C'è il costo aggiuntivo Quindi Subito Facciamo subito Un appunto Se te vuoi La tesla Perché pensi Di risparmiare Secondo me Scordatelo Perché secondo me Vai a spendere Uguale Magari Qualcosetta Ma Se ti dici Gas Gas o no più Vabbè Gas o no più Devi Chiamare L'Enel Che ti metta Proprio L'Enel In persona Ti metta La centralina Ci metta Il 240 Vai andrai A spendere Di più E quindi Vai a spendere Di più Al mese Poi Altro punto Fondamentale Della tesla Modello 3 E che La ordine Oggi Vabbè Di pagare Mille dollari E poi Iniziano A Spedire Nel Cioè Per te Devi aspettare Dai 10 Ai 18 Mesi Quindi Dicevo Che il prossimo Anno Se non Il prossimo Anno A giugno Potevo Averla Quindi A me Siamo Una macchina Adesso La mia Macchina È una Honda Civic Del 2009 Con 180 Mila Kilometri E non gli ho mai Cambiato la cinghia Ma scusa Se non me lo dite Che ne so Io Io vado Eh Adesso Diciamo che Boh A me non mi è mai arrivato nulla Poi io Non ho fatto nessun tagliando Insomma Allora comunque L'auto A parte quello Insomma Si sentono rumori Poi c'è questo Fastidioso Ticchettio Nella radio Che facciamo sempre in radio Quindi Purtroppo Purtroppo A mio malgrado Devo cambiare l'auto Eh Ok Dopo rispondiamo alle domande Che ho visto che mi hanno mandato No Ma Ford Mondeo È una È un'auto Mai sentite Adesso la guardo subito Allora Carmax Vado Anzi Guardiamo direttamente Perché io non l'ho mai sentita Ford Mondeo La Ford Mondeo Ah Quella è la Ford Com'è che la chiamano Non me la chiamano La chiamano così in America Eh Brrbrrbrrbrr La Ford Mondeo Quella lì Ford È tipo Station Vego Io non l'ho mai vista Infatti secondo me Non esiste Non esiste C'è la Fiat 124 Spider Ma la Ford Mondeo Eh Ah la chiamano Ford Contour Ah Beh la Ford Fusion L'ho vista Sì 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 Guardiamo su Carmax Giusto per Ma Non mi ispiro Insomma Io volevo una macchina Che avesse Un qualcosa Che mi dicesse Ci sono Sono vivo Sono vivo Un qualcosa Tipo Può essere Che so I sedevi in pelle Piuttosto che I dadi Sul volante allora ford mondeo infatti vedi non c'è scherzo verrà chiamato un altro modo ritorniamo alla nostra e la performance tesla numero 3 da 0 a 60 in 5.6 va bene top speed 130 armidi all'ora interior 15 pollici touchscreen fm internet streaming radio siti allora la garanzia sul veicolo quattro anni o 50.000 miglia 50.000 miglia la garanzia sulla batteria sono otto anni o 100.000 miglia adesso comunque non porterò più una macchina oltre 100.000 miglia perché a parte poi che inizioni i problemi quelli più seri siamo a 100 mila miglia sia sono a 114 mila miglia prima ho detto 180 mila chilometri quindi però non poteva più una macchina oltre anche forse oltre i 90 perché hanno detto mi hanno detto mi hanno riferito che praticamente te la svalutano tanto se superi 90 mila quindi della batteria dovremmo essere ok tra tieni otto anni o 100.000 e quindi adesso veniamo noi sempre una batteria quella standard della 35 mila non ti piace dall'altro questi info magari per voi possono essere anche nuove anche te nicola da trento che mi lo dici sempre potrebbe essere anche nuove per te perché sul sito la tesla porca puzzo sono impegnati con i missili e non mettono le cose della tesla non te lo dicono e io invece lo so perché c'è un insider allora se volete la batteria a lungo raggio che vi dà 100 miglia in più tre quindi 310 miglia ci costa 9 mila dollari 9 mila dollari c'è 9 mila dollari non so quattro cacchi 4 cacchi sono 9 mila dollari quindi la tesla modello 3 potrebbe diventare a un certo momento molto molto costosa no ma io questo lo salterei perché a me 200 miglia mi va mi vanno benissimo comunque con 300 miglia praticamente da qua dove sto andare a miami ce la fai con una carica senza caricarlo nel mio caso mi dovrò fermare che sono vicini ci sono tutte le mappe ovviamente poi la vernice se volete il metallo se volete il solid colore flat quello classico che da loro è gratis se volete metallici costa mille dollari in più e lì tac un altro allora siamo di agia così se volete l'assetto sportivo su 1500 dollari ma quello non me ne frega niente adesso entriamo nei premium packages allora se volete i sedili riscaldati il parauti rinforzati cose antisco e cristalli antiproiettile e poi volete ci sono sedili aggiustabili elettronicamente un sistema audio bello con più subwoofer i vetri tinti il fendinebbia 5000 dollari in più cioè nelle macchine normali questi pacchetti costicchiano sempre però 1500 2000 e qui non andiamo a botte di 5000 no perché l'attesa va bene tesa troppe a botte di 5000 ma anche quello noi lo salteremo però adesso arriviamo al punto bello perché se a me una cosa della testa che poi mi piace è sta tecnologia l'autopilot e cose no allora enhance autopilot il modello 3 il modello 3 di bar il modello 3 praticamente guarderà la la velocità con il controllo del traffico starà nella stessa corsia automaticamente cambierà anche corsia su una macchina è lenta te lo super questo è bello transizione da una autostrada un'altra esce dall'autostrada e si auto parcheggia la tua destinazione amico mio amico mio questo è il top questo è proprio quello che voglio io 5000 dollari in più però scusa cioè non è che compri la tesa se sei un barbone questa è una macchina da ricchi non da uno che vuole arrivare l'ambiente risparmi gli orsi polari che se vede che gli orsi polari io voglio allora mary fish e poi cose di oggi ciao a tutti intanto la macchina va e va va se devi curare sale e scendi arrivi a destinazione sono già arrivato la capuzza giustizia è fatta e tu dirai bellissimo no 5000 dollari in più non è finita qui amici allora full self driving capability full self driving capability che però richiede le cose precedenti dell'autopaito che vi ho detto in futuro il model 3 sarà capace di condurre viaggi senza nessuna azione richiesta dalla persona del sedile quindi è proprio quello il top e in posti lei va anzi secondo me avranno magari un sistema che proprio tipo quello che si vede in finché su g c'è il volante si toglie insomma bellissimo questo 3000 dollari in più probabilmente questa cosa non la puoi ordinare ancora perché non c'è ancora comunque a star giusti giusti e a stare così quei 35 mila dollari vengono subito 40 poi se ci aggiungi le tasse le cose arriviamo subito 45 quindi l'attesa modello 3 costa 45 mila dollari va bene 45 mila dollari quanto sarebbe al mese non c'è problema facciamo subito una calcolazione voi quanto quanto siete disposti a spendere quanto gli date di soldi down che sono dei soldini che mettete così di po 2 mila dollari 3 mila dollari che alla fine del mese che film è che film è che sono a fine del mese allora in florida le tasse su una macchina di 45 mila dollari sono 3500 dollari allora mettiamo che saverio ha un credito eccellente quindi sistema di credito un sistema americano ma mettiamo che ce l'hai eccellente quindi ti darà un interesse del dal 2 al 4 per cento mettiamo che te gli dai gli dai di down un 5 mila perché magari vuoi coprire le spese di queste tasse 5000 mettiamo che ti vuoi fare un lungo termine 72 mesi viene a pagare 671 dollari al mese che quando comprai la macchina honda civic pagavo 320 quindi devi pagare più del doppio fattibile sì è fattibile insomma però inizia a costicchiare poi ovviamente se voi adesso io il credito super però se voi avete un credito scarso allora lì se ce l'hai un po più scarso finanzia tutto il possibile con tasso fisso e ma allora questo è uno delle degli sbagli americani più frequenti quelli di fare tutto in carte di credito poi alla fine ti ritrovi che non riesci a pagare questo un classico lo fanno comunque se è un credito un po più scarso dal 5.9 dal 5 al 9 750 dollari al mese se ce l'hai proprio la merda good 850 se ce l'hai la merda 1000 al mese hai capito 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 diciamo che in futuro io invece la mia tecnica è comprare una macchina adesso ce la teniamo tre anni o cinque anni non lo so la vendiamo non troppo la vendiamo e la mettiamo down facciamo il trade in con la tesla quando poi fra tre anni la tesla 3 le trovi usate perché sia se andate sulla sul sito della tesla ci sono le macchine usate se vi dico subito il sito della tesla quelle imbecille non si capisce nulla modello s a news used allora partono da 49 mila dollari il modello s 85 con la batteria da 85 kilowatt ora ovviamente l'ho già sperato come calcolare quanto spenderete in elettricità dovete pigliare il kilowatt ora della batteria in questo caso 85 allora in florida dovete guardare in italia facciamo in italia italia 50 kilowatt ora costo salutami live barbone ciao ciro ciro c'è un audi ma non lo so queste audi non è che ispirano più di tanto allora nella fascia unica nella fascia giorno nella fascia sera e weekend mettiamo che la caricata di sera costa 0,0 63 93 euro quindi lo moltiplichiamo per 85 kilowatt ora viene a costare 5.4 euro se la calcate di notte no 11 ma infatti questa è uno dice come dice si economico c'è però voi ci avete già la 240 o la 230 o la 220 insomma anche se avete la 220 si vede per forza 240 non sarà niente di che e ci da noi anzi bisognerebbe vedere da noi quanto ci costa secondariamente e questa è una cosa che è molto molto importante in italia la benzina costa un casino no e da noi costa poco da noi un pieno di benzina anche marta che c'è l'auto più grossa c'è massimo 30 dollari non di più io 25 27 così quindi a me di risparmiare 50 dollari non è c'è non è che io spendo più di tanto adesso però tu dirai amico e vabbè la benzina costa di più ma anche l'elettricità quindi uguale adesso vediamo in florida quanto costa il kilowattora club ora cost mi sembra 12 cents per kilowattora ma adesso noi vogliamo tradurre quel il costo degli euro per kilowattora in dollari per capire che non ci sto capendo niente a 6 centesimi di euro al kilowattora allora adesso facciamo euro su usd su google si fa google andiamo qui convertendo quindi la golf viene un dollaro e 23 hai capito no sbagliato ma che cavolo simbicilles si vede che euro su dollaro euro su us ok ok mettiamo così mettiamo viene 79 centesimi da noi invece costa 12 centesimi quindi da voi a capuzzo da voi costa un sacco di più anche l'energia elettrica 79 centesimi contro 12 centesimi no quindi da noi per caricarla ci vuole mentre facciamo 12 centesimi per 85 0 12 per 85 chilometri viene 10 dollari beh c'è qualcosa che mi trova questa matematica la matematica allora viene 10 dollari per caricarla tesla quindi controlando la liquida annuale 10 dollari la trasformiamo in che sarebbe 8 8 euro no quindi da voi c'è qualcosa che è venuto 5 euro per caricarla tesla e da noi c'è venuto 8 euro c'è qualcosa nella torna c'è qualcosa che da voi costa di più l'energia vabbè questo dettagli dettagli comunque basta questo è quanto tesla purtroppo al momento non ce lo possiamo prendere non ce lo cosa definitiva non è disponibile cioè se era lì andavi una settimana te la davano ok si poteva fare anche perché con la tesla ti danno 7500 dollari di incentivo quindi quello era bello te dici anche ho speso 45 mila dollari ma mi tolgono 7500 dollari di tasse quindi quelle toppe se andavi nel giro di to un mese la avevi ci poteva anche stare ma se devi aspettare un anno e mezzo allora non ci posso non è possibile non è possibile dai for the times jeep allora la jeep dipende che jeep perché la jeep wrangler che è molto bella ma è anche molto rumorosa quelle con la cappottina un po molliccia io mi ricordo che mio fratello ce l'aveva ed era rumorosissima c'ero chi la volo oggi ho avuta bella 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 però siccome l'ho già avuta volevo cambiare no lamborghini lamborghini a me piace il problema il garage non ci sta tra l'altro nell'ultimo mio video che ho fatto vedere che abbiamo tolto mezzo a posto il garage tutto quanto ci stanno due macchine però abbiamo misurato la larghezza lamborghini e la lunghezza non ci sta non ci sta e non ci sta nel garage non è che la posso lasciare fuori ma rubano subito è la volvo x i 60 x 90 ieri ho visto lavoro adesso vedete quanto costa era un po strano aveva il dietro strano volvo mi sembra che una c secondo me non è quella che dite voi allora lavoro qua non è una macchina molto molto in uso perché è europea quindi però non è che tipo bmw e volvo è il più d'elite secondo me già molto di lusso e non se ne vedono tante non costano tanto ma io c'è sempre il problema non è che poi questa costa un sacco riparla perché una volvo allora scusa mi prendo una una ford ecco non problemi ma te mi dici questo io io erino vista una che era piccola piccola microscopica proprio microscopica che forse era la c30 a questa che c'aveva il dietro un po strano tipo assisi la c30 bella c30 con 13 mila tra danno e la tirano dietro bellina e ma non ci sono modelli nuovi evidentemente hanno fatto non affanno più ma io ho scoperto le mie grandi scoperte automobilistiche dopo aver scoperto che l'audi la fa la volkswagen e la la porsche anche tutta la una combriccola e che hitler disegnò il maggiolino e che inizialmente la volkswagen era una specie di svastica come logo e ho scoperto anche sito uno scopo uno scopo non me lo ricordo più lo scopo assieme cosa stavo dicendo ho scoperto appunto che ore sono le otto e ci abbiamo ancora tempo la ford focus 2.3 rock boost no non lo so se della ford volevo comprare la mustang della ford che modelli ci sono modello normale a me la ford mustang piace da fuori non mi è piaciuta proprio da dentro da fuori fa una bella figura è poi pensavamo di comprarla colore quello che capita può essere rosa con i pallini giallo bitcola no gialla verde arancione però ci vogliamo attaccare le strisce perché quando guardi le master le top c'è sempre le strisce no bisogna comprare la scelvi per avere le strisce no le strisce delle mt adesso magari non me le mette o necessariamente io la portavamo a metterle però le strisce costano pochissimo troppissimo se devi fare il tamarolo devi fare fino in fondo poi ci mettevamo un po di luci sotto sotto è il top è schermi su boom così giustizia è fatta guarda c'è una ford mustang ecobus 2016 15 mila miglia 21 21 mila dollari pochissimo anche per il discorso elettrico comunque ci sono un sacco di nuove compagnie che lo fanno anche la anche la volkswagen e c'è la golf e però non è ancora disponibile di non è ancora siamo all'inizio tic tac siamo all'inizio tic tac dunque la nissan leaf c'è ma non lo so o la tesla o niente tra l'altro guardiamo le azioni della tesla è perché io adesso voglio comprare le azioni della tesla tesla stocks allora e costa 300 dollari ad azione calcolate che un'azione dell'epoca costa 160 la testa già inizia a costicchiare io comprei un'azione ormai bitcoin ormai è passata già la moda se lo di bec coni si sono ripresi siamo 8.300 il light coni a 153 latte anche tutta la borsa in sé si è ripresa la e poi a 163 e 0 3 però la tesla pro capuzzo a costicchia e costicchia fammi vedere un anno un anno fare a 280 vediamo il massimo secco adesso facciamo le classiche cose che si diceva anche di mico se li compravi nel 2011 la tesla costava 35 dollari adesso saresti milionario allora e le azioni che comprerò io ve le dico subito la tesla la apple apple un anno fa qual è che questo un anno fa un anno fa erano a 130 e io le avevo comprate infatti a pochissimo e le ho vendute a tantissimo allora però guarda nel 2013 la apple era 67 dollari adesso è a 163 poi vediamo una uno stock le stock di dan bilzerian dan bilzerian stock ha detto che voleva anche lui entrare dentro il cannabis brand canadian voglio vedere le situazioni quanto costano la llq e le lq compriamole sapete quanto costano 25 sense diciamo che questo è un po un rischio eh però vabbè per 25 sense come aver comprati bitcoin sono le le azioni cannabis che adesso vanno di moda perché le hanno legalizzati un sacco di posti segretario gi 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 compro due azioni sono che basta giustizia fatta allora e michele vediamo vediamo le risposte risposte alle domande allora mi chio minchia questo bitcoin il bitcoin vi dico subito nel nostro coin market allora bitcoin siamo 8.400 l'eretium ethereum come si chiama 841 il ripple 0679 i bitcoin cash 1000 cardano 030 litecoin 155 nio 117 stellar 037 sono tutte scese in questi giorni ma sono tutte adesso salite sono tutte inattivo e quindi amici cripto comprare 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 comprazioni della finiva e spia io ho comprato travel flex un bidone allora gattullo cake che film è che mi ero su che sito guardi le variazioni ma io guarda su google o google la te viene da lì poi ce l'ho qui nelle post hoc nell'applicazione pannello di controllo gli ho inserite quelle famose compra canistracci lancia delta s4 non c'è c'è adesso c'è l'alfa romeo qui la fiat ma la lancia non è ancora arrivata adesso mi dirai ma lo sai che la fiat fa l'alfa romeo la lancia la fiat non lo sapevo ma lo sapevate che la toyota fa la lexus non lo sapevo la apple è destinata a fallire chi lo dice samsungiano a parte che tutte le compagnie sono destinate a fallire tutte 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 ci sarà un mondo un momento che falliscono pure la apple però fallerà prima la samsung e tu direi ora che la samsung è grande non fallerà mai i frigoriferi serviranno sempre comunque no ho comprato l'on pod l'on pod della apple quindi mi deve arrivare questa settimana faremo l'unboxing l'ho comprato solo esclusivamente per l'unboxing e poi lo rimando non dito lo giro non dito la agli azionisti della apple che ci sono personaggetti che compro la roba della apple solo per fare le big news e poi rimandano indietro fiat 500 abart no fiat 124 abart ero tentato mercedes classiano perché abbiamo già detto che secondo me costa ad aggiustarlo toyota prius basta le ibride basta tesla tesla saliranno compra amd comprerò una sicurezza mi raccorda dove vieni da che parte bevi vivo a rimini una ridente località comprazioni fin invest io volevo le azioni della standa ma non è troppo mio su questo sito vedi le variazioni ciao ciao michele la monaco ieri mi hanno detto a parte che non sei venuta nel gruppo di telegram ma come cosa devo fare lo c'è il gruppo di te scaricati te arca pui vero che l'apple store ha tolto la l'applicazione telegram non so come mai alcuni dicono perché i contenuti o addirittura ho letto che è telegram siccome dicono che è molto privato riesce a crittografare i messaggi bene lo usano i terroristi comunque scherzo scherzo comunque mi hanno detto ma michele la monaco sono dei personaggi veri o no io ho detto verissimo anche intervistati nella radio venite tutti sulla radio mirko jacks che si trova su spricker spricker.com ricordate se volete il link lo metterò nella descrizione dei video c'è sempre il link della radio compro finmore finmore canistracci no 5.000 azioni della finmore finmore arturo artieri antonio emilio artieri 5.000 azioni della canistracci oil ford mustang prediligo la sherwood camaro la sherwood camaro è bellina però non lo so saverio hai scassato comunque questa forza che ti dicevo il vero sport è scassato lo stavo leggendo il messaggio manuele lo diceva manuele ci consiglia una cero chi ce l'ha anche nel nick quindi per forza comunque questa forza diceva il vero sport è fatta anche meglio della cadillac e cadillac mi piacerebbe che la cadillac è sicuramente meglio di una lincoln lo dice anche bubbi for the focus mustang mustang gli interiori sono di scarsa fattura infatti quello l'ho notato un po cadillac cadillac bello io avevo guardato anche perché secondo me la storia delle macchine e che che pale ogni cinque anni la di giro di giro ogni cinque anni la macchina la devi comprare perché uno dice la tengo non pago niente ma poi ci sono sempre problemi avevo pensato ci vorrebbe una macchina che proprio il top ti piace quindi una vintage tipo ci sono dei posti qui che le macchine vecchie ci sono tipo una bella carrion una bella 126 una 100 no una macchina americana vecchia tipo una mustang degli anni 60 non è che quando compri quella perché però diciamo cioè poi lì entra in un altro problemi altro che i pezzi di ricambio che costano quelli della della bmw però a me piacerebbe una macchina americana anche degli anni 70 tipo queste camaro così ma ovviamente mi piacerebbe molto di più le cade anche degli anni 50 dei 60 quelle topissime ovviamente per poi arrivare al top del top al massimo dei massimi la plymouth fury 1959 un giorno ti avrò e ti chiamerò christine christine arrivaremo sempre insieme topissimo quello però quella lei non è una macchina andare in giro tutti i giorni anche se quello sarebbe il mio obiettivo avere proprio quella andare in giro con quella bellissima solo canzoni anni 50 chi film è che film è amk army spam alert chi è sto spam aler mk lo dobbiamo subito bloccare a no 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 allora dicevamo dobbiamo comunque arrivare a 20 mila altrimenti non posso mettere il video della macchina nuova è comunque vi posso dire un'indiscrezione che la macchina nuova l'idea c'è l'idea c'è c'è così tanto che ne abbiamo ordinata una per fare il giro di prova ciò vuol dire siamo abbastanza interessati a quel modello lì a quella marca lì però non abbiamo firmato niente e quindi se non ci piace amici come prima perché questo qui car max è il top del top no te vai lì prove 50 macchine infatti pensavamo di andare e continuare questa serie di prova 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 giusto per le visualizzazioni che stanno benissimo e provare anche un paio di pick up tipo un bel dodge ram piuttosto che una una multipla una fiat panda uno un pick up che volete colorado oppure doge ram non lo so no giustizia è fatta allora altri commenti mirko mtc a voi saluta un vecchio panda 4 da lì si trova alfa romeo giulia nuovo si si trova chiuschi dance adesso c'è alfa romeo c'è pure il concessionario fiat alfa romeo siamo andati guarda il mio video quando siamo andati a provare la 124 che di fianco c'era alfa romeo e c'era c'era la giulia quella lì bella insomma niente di che e poi c'era una spider alfa romeo da 70 mila dollari bellissimo mi piaceva quella 124 fiat 120 a 124 ok e la 124 mi è rimasta e mi ha dato la pulce del cabrio e mi è rimasta che secondo me era quasi la migliore però porca puzzola ma è un po troppo piccola è però vabbè non avevamo ancora provato la nissan 370 se volete vedere una macchina piccola bagagliaio microsco non esiste una macchina che al bagagliaio più piccolo di quella provatevi la nissan 370 z da sei cilindri 3.6 da 0 a 100 in 4.5 molto bella poi è bello stato bello perché non c'è non sapevo bene come si pilotava comunque quelle quei cambi sotto il volante e non sapevo vabbè ho capito che fai così vai più veloci cioè gira il volante a sinistra la macchina va a sinistra gira il volante a destra un po come la bicicletta però non sapevo come si metteva come si toglieva quel tuo scimunito non ci ha detto nulla e ora se mi sto fregato questo è quanto allora basta vediamo cosa volete sapere il problema è che il quadrifoglio costa davvero tanto il kayak dove li metti il kayak usi utilizzeremo con la macchina di marta come come abbiamo fatto fino ad ora tanto sulla mia onda civico ormai non mettevo più niente perché me l'hanno riverniciata quelli della onda perché c'era un problema sulla vernice un recall e poi allora mi mi hanno messo anche a posto gli scratch che avevo fatto e quindi va bene va bene questo è quanto ci sono 8 22 ecco adesso aspetta vi faccio vedere la macchina che voglio attenzione stai lì eh dove cavolo è l'accensione aspetta perché c'è l'accensione ve la devo far vedere accesa qua rumore è molto utile dell'accensione e lì eh il dracce di per gloppio con la come dice nel film che se vuoi si riaccende allora guardiamolo come dentro è un coupé 24 cilindro quanti vediamo adesso vi dico le specifiche che non le so allora Plymouth la Plymouth praticamente si è consociata poi con la Dodge che poi la Plymouth si è consociata con la Chrysler più vuoi la Chrysler si è consociata con la Fiat e quindi questa è una Fiat amici ascoltatori Plymouth Fury 59 Christine la chiamano anche ok Spex Spex guardiamo dietro scolo del 59 eccolo qui questa è un po' diversa perché c'è sempre un po' un casino tra la Fury e la Belvedere non si capisce mai quale è quale non è allora ecco lei la Fury del 59 allora c'è un motore di 4,97 litri e i bloc 8 cilindri ci sono tre tipi c'è fino a 361 cubic inch engine da 5.92 litri io vorrei vedere le specifiche tipo da 0 a 100 aspetta eh 0,60 oh ecco 0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50, no eh fa culo ma no allora sei imbecilo si braci allora una del 68 da 0 a 60 in 7 secondi figuri affanculo allora c'è un sito che si chiama 0 to 60 specification ah eccola eccola bellissima bellissima allora c'è una trasmissione di tre rapporti con un override e 3 speed torque flight automatic option sospensioni davanti sospensioni dietro freni a disco a tamburo da 0 a 100 in 10.5 secondi guardate quanto è bella guardiamola dentro guardiamo il baule guarda quanto è bello guarda che questi dentro questi bauli delle macchine americane ci stava l'impossibile io quando avevo una mercury del 1980 dentro cittadino la bicicletta non è a mountain bike no ma non sa chi ci stava 20 valigie chissà quanti morti ci sono stati dentro le auto americane ovviamente nei film fanno sempre vedere tolle giustizia va Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspetta, perché poi lì c'è tutto un mercato di pezzi e vai a fidati a comprare una macchina del genere. Lì devi essere già un meccanico, oppure sei ricco, non ci sono altre, Sol. Allora, dai. Niente, non si trova, non lo so, ci guarderò. Cisco. Prenditi il Ford 150. Eh, ma quello è un pick-up? È un pick-up? Sono mezzo a Calabzebreze, ciciliano e mio marito veneziano di Venezia. Jork Elkan di Fiat e Ingrid. Subaru Baraka. Fresco. Vabbè, questo è quanto per questa bellissima live. Comunque no, vediamo se qualcuno mi ha. Siamo saliti. Siamo saliti. Eravamo a 468. Adesso siamo... A 469! Un nuovo iscritto! Quanti ci mancano per arrivare a 20.000? Eh... Ci mancano... 500... Qualcosa iscritti. 500 iscritti! 500 iscritti! Ma come faccio? Fatemi vedere i commenti di oggi. Sto ricevendo un sacco commenti su dei vecchi... Dei video vecchi. Quelli della pizza. Quello, vabbè, delle cuffie tagliate. Ovviamente. Dai! 500! 500! Non ce la farò mai. Allora, questo è quanto. Allora, ci vediamo la prossima volta. Ciao! Adesso partiamo subito con la radio. La radio in 5 minuti, eh. 10 minuti. Penso... Seguitemi tutti nella radio. Ciao! Ciao a tutti! Ciao Michelele Monaco! Ciao a tutti quelli che mi conoscono! Ciao! Ciao, 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 ciao! Sono solo ancora le 8.30. Adesso guardiamo... Guardiamo altre cose. Ciao! Ciao, ciao, ciao! 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 E' un'altra cosa che mi è stata donata da un fan. Non comprata. Ciao! 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 Grazie a tutti.